Che è successo, Noah? Quale canzone cantiamo? Vuoi cantare una canzone con Christian? No, e perché stai piangendo? Perché piangi, caro? Mi spieghi che cosa c'è? Perché stai piangendo? Che cosa? Allora, se piangi così io non ti capisco Senza piangere No, me lo devi dire senza piangere Perché sennò io non riesco a capire quello che stai dicendo Allora, me lo dici adesso che sei tranquillo? Che cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? La moto Vuoi vedere la moto? Sì Nella televisione? Sì Ma adesso Christian ha detto che voleva suonare un po' la chitarra Adesso ascoltiamo un po' Christian Abbiamo già visto la televisione un pochino Ma la televisione non la possiamo vedere tanto Solo un pochino Ci sono tante cose da fare Ma non si fa... Ascolta Non si fa così Non si fa così Non si possono fare i capricci perché vuoi vedere la televisione Perché tu l'hai vista la televisione E non si possono fare i capricci E io te l'ho fatta vedere la televisione Adesso basta televisione Capito amore mio? Però Non bisogna fare più i capricci Adesso possiamo cantare Poi tra un pochino E' ascolta Guardata che ci sono tutti i mattoncini per terra Se non devi più giocare sai che bisogna mettere a posto i giochi Che vogliamo fare? Vuoi mettere a posto i giochi adesso? Oppure cantiamo una canzone con Christian? Facciamo suonare Christian? Che dici? Mi fa tesurare? Cosa vuoi fare? Sono i giochi Cosa vuoi fare? Sono i giochi Anche i giochi? Anche i giochi Guarda stanno lì Hai fatto un casino con i giochi Hai buttati per tutta casa Ma va bene che giochi Poi quando hai finito Bisogna? Tranquillo Sì? Sì Sistema Come si dice? Sistemare Dopo Mi aiuti a sistemare? Sì Sì? Bravo amore mio Senti adesso che sta più tranquillo Ascoltiamo Christian che vuole suonarci una canzone? Sì Sono Sì Sono Dai Christian Che canzone ti piace? Vediamo un po' se no C'è una canzone che gli piace in particolare Che canzone è questa? C'è chi soffre soltanto d'amore Adesso perché stai piangendo? Senti che bella la canzone Senti che bella la canzone è questa? Senti che bella la canzone è questa? Senti che bella la canzone è questa? Aspetta Christian un attimo per favore Aspetta un attimo Che c'è Noah? Adesso perché stai piangendo? Che c'è? No Non mi pare così Mi devi Ascoltami Allora mamma A me piace che parli Ok? Che mi dici Che è successo? Allora Allora La PV si dice? Sì Non si dice la TV Come si dice? TV Bravissimo Allora Prima Facciamo qualcos'altro Ascoltiamo Christian Facciamo un altro gioco E dopo vediamo la TV Che ne dici? Sì papà Papà sono io? No Ma hai detto sì papà Adesso parlo come papà Cioè lo faccio la voce così Io sono papà Sono papà? No No? Hai mai detto sì papà? Mamma Chi sono io? Mamma Ah ecco Senti Ascoltiamo Christian Tranquilli Facciamo qualcos'altro Un altro gioco Dopo Dopo possiamo giocare con i birilli Ok? Possiamo fare tante cose E poi Stasera Però se ti comporti bene Bene Che io lo so che tu sei bravissimo Vero che sei bravo Amore mio Sei bravissimo tu Aspettiamo Christian E più tardi vediamo la TV Ok te lo prometto Mamma No Non mi piace Non mi piace Che cosa non ti piace? Non mi piace Non ti piace che Christian suona la chitarra? E quindi Christian che cosa deve fare? Io devo suonare Eh E quindi che fa? Si deve chiudere in camera solo soletto a suonare perché a te non piace? Non è giusto Devo stare in salone a suonare la chitarra Dobbiamo stare insieme Dobbiamo stare insieme E' bello stare insieme Poi Christian Allora Christian dopo Lo sai che cosa fa? Si vede i cartoni che piacciono a te Li guardate insieme Ok? Adesso Tu fai una cosa che piace a Christian Ma ti piace Vero? Che cos'è che gli piace a Christian? Chican Chican E bimbi Cos'è che gli piace a Christian? Mi piace suonare la chitarra Ecco Mi fai vedere come sei brava? E sei inza a fare con tutte queste lagne? E' bello Me lo dai un bacino Me lo voglio un bacio Adesso piango io allora Piango io perché non mi vuole dare un bacio Uuuu Piango io Piango Piango io Piango E no non mi vuole dare un bacio Amore mio Ascoltiamo Christian? Ascoltiamo Christian che suona Fa bene? E' sempre Le scarpe Le scarpe si Ascoltiamo Ascoltiamo Christian? Siediti qua vai Digli dai fratello suona Chris tu lo sai Tu sai una canzone che piace a Noah? Adesso magari lo conduciamo un po' Vieni Vieni dai Vieni su Lascia stanno le scarpe Dopo si gioca con le scarpe Alla Pronti Vedi il santo? Pronti Quale canzone li canto a Noah? Quale canzone suona Noah? Allora diglielo tu Che canzone vuoi che suona Christian? Alla Quale canzone suona la chitarra? Che canzone deve suonare Christian? Alla Quale? Alla Come fa? Alla Non mi piace Adesso bisogna suonare Perché Christian vuole suonare Adesso bisogna suonare Dobbiamo fare una cosa che piace pure a Christian Non è che possiamo fare sempre quello che piace a te Dopo facciamo una cosa che piace a te Ok? Adesso però suoniamo la chitarra Dai Dai Buon amore mio Tu vuoi fare felice Christian? Tu vuoi che Christian sia felice o triste? Tu vuoi che Christian sia felice? Sì o no? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ma io ti chiedo che cosa vuoi Io lo so che cosa vuoi Però già la mamma ti ha detto Quello che possiamo fare adesso La televisione già l'hai vista prima Adesso invece Perché continui a piangere? No Dobbiamo stare tutto il giorno qua A sentirti piangere Vuoi piangere tutto il giorno? Allora sediti qua Allora vieni a sederti qua No Se ti piangi io non ti capisco Vieni qua Vieni a piangere qua Vieni Vai piangi Vieni qua Vieni Poco quando hai finito mi dici Ho finito mamma di piangere Non c'è bisogno di fare così Non mi piace che si fa così eh Dove vai? Vieni un attimo Vieni che dobbiamo ascoltare Christian Noa vieni un attimo E dopo Christian ascolta Le canzoni che piacciono a te Dei cartoni O si vede non so Se ti vuoi vedere un film Vieni Va bene? Mi vuoi bene Noa Vuoi bene Christian? E Noa? Dai vieni mamma Vieni con me Vieni che ascoltiamo Christian Che sono una bellissima canzone Vieni qua Noa guardaci un attimo Vieni a parlare con mamma Ehi guardaci Se fai così Più tardi io non accendo la televisione L'idea è di ascoltare Christian adesso E più tardi ti faccio vedere la televisione Ma se ti comporti male La televisione non si può mettere La televisione bisogna guardarla quando si sta tranquilli Se ti metti a piangere Se ti metti a fare i capricci Allora no Non si può mettere la televisione Mentre si fanno i capricci Vieni con mamma Mentre si fanno i capricci No Ascoltami Ascoltami Ascoltiamo Christian Mamma Sì amore mio E dopo sentiamo la televisione Mamma Ehi Ascoltiamo prima Christian Allora non ti faccio vedere la televisione oggi Dai Ti suoni una bella canzone? Ti suoni una bella canzone con la mia chitarra Che schifo C'hai quelle mani sporche che hai toccato di tutto e di più sul pavimento O piano O piano 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 Allora vieni dai Eccolo che bella questa canzone Come si chiama questa canzone? Che ballo dissi? Come fa come le mani? Come fa simone come le mani? Basti nari a le mani Sano stai No me muoile la mani Che seguito in po' niente Vai Come fa come le mani? Basti nari a le mani Sano stai E poi fa le dita Se fai come se muo Non puoi sento sbagliare Bravo amore Basti nari a le mani Basti nari a le mani Come si chiama questa canzone? Sano stai E poi fa le dita Sano stai Se fai come se muo Sano stai Non puoi sento sbagliare Bravissimo Bravissimo Ma quanto sei bravo amore mio La mia muo La mia muo La mia muo Allora lo accontentiamo adesso a vedere una cosina Che piace a lui nella tv Va bene? Si Mi capisce che è stato bravo E che bisogna attendere il proprio turno È stato bravo Adesso accontentiamo lui un po' Allora digli a Cristian che cosa vuoi vedere Digli Cristian però vieni a vedere con me la televisione Ehi la mosca Ehi la mosca Ehi si amore mio appello di mosca Mannaggia Quando arriva questo periodo qui al mare E quindi Vi ho suonato un po' la starra E adesso che cosa vuoi vedere? Digli a Cristian Digli Cristian Vieni a vedere con me Allora Green Adesso tu ti metti seduto qua con lui E guardiamo qualcosa insieme Insieme Qualcosa che piace a lui Chiedigli che cosa vuole vedere Che cosa vuoi vedere? Che cosa vuoi vedere? Mamma Cosa vuoi vedere nel televisore? Curioso come Giorgio No? No adesso no Esiste il mio motoco Adesso dobbiamo vedere Curioso come Giorgio Ti ricordi? Che te l'abbiamo promesso Vieni 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 O vuoi giocare? Ah vabbè meglio dai Vieni se vuoi giocare Allora giochiamo insieme Come fanno le campane? I trattori I trattori I trattori non c'è Ok I trattori non c'è d'estate No Perché? Perché è rotto Comprare un altro Comprare un altro Comprare un altro Eh sì Si è rotto il tuo trattore blu Mi compriamo un altro? Sì Però Bisogna fare attenzione Che non si rompa un'altra volta Va bene? Sì Non è stata colpa tua Però la prossima volta Bisogna fare più attenzione Perché non è che possiamo Comprare sempre Trattori sempre nuovi Eh Va bene? Come fanno le campane? Din-dan-don Din-dan-don Consola T庭 E' È E' Grazie per la visione!